Siete pronte? No! Cosa ci raccontate oggi? Cambiamo la gara Ok Quindi sabato Che era il? Era il 15 Brava E al 4.15 Non so se è arrivata Arrivata al 5.10 Vabbè Non ci interessa l'orario Comunque avete fatto la gara E che gara era? Silver Gara Silver Individuale Regionale Ok Ed era la seconda prova No La prima No La prima non l'avete fatta Era la seconda prova E come mai questa Ma la smettete di mangiare Scusate Mi ha male Ma io sono mio padre Lo scemo di me Hanno chiesto in tanti perché avete fatto Silver quest'anno Allora Uno perché Quando abbiamo ricordato il gold Di eravamo ancora pronti Di erano alcuni elementi Diciamo Dico Era un raccambitamento Per tutta tra E io non so Anche se non erano alcuni elementi Di quelli Vabbè Per alcuni elementi che erano molto difficili nel gold Poi anche Elena con il ginocchio Era un po' poverina debilitata quest'anno Vero? Sì sì Vabbè adesso tanto lo sanno com'è andata Vabbè Iniziamo Ah no Prima ditemi se eravate agitate o tranquille Allora A casa I giorni prima Ero del gusto A me la sono arrivata in campi Oh Dio Dio C'è un po' che mi ha fatto La città E io mi ha fatto E io mi ha fatto Che è che è che è che è Beh C'è Sono fuori in palestra E mi stai tranquilla E dentro la palestra E ero tutta Così Anch'io Uguale? Come è andato corpo libero Una alla volta Ele? No Ma è la mia Ele Ele Tutto bene? Niente di particolare da dire Del tuo corpo libero? No No Cioè ho fatto un solo Una Diagonale Però ho fatto tutto E qual era la tua Diagonale? Rimando da una nuova Diagonale? No No Grazie a tutti. 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 Secondo attrezzo? Volteggio. Allora, Ele racconta un po' più nello specifico cosa hai fatto. E ho fatto una ribaltata. Senza rincorsa? No, non è... Vabbè, hai fatto... Dovevi in teoria non portare proprio volteggio, infatti era... Esatto, era giusto per provare a fare la gara, invece poi alla fine, all'ultimo, hai deciso di fare ribaltata. Chiaro volteggio? È andata bene. E' andata bene. E' andata bene. E' andata bene, però è andata bene, perché se ne andate più veloce di l'anno, invece passano... E' andata bene. Ok, terzo attrezzo. E' andata bene. E' andata bene. Poi ho fatto... Subito? E' andata bene. Chiara? Parallela? Tutto normale Non siamo cadute Ho fatto un giro di piante così Però dopo il secondo vengono Grazie a tutti Trave Trave cadute? Sì Da cosa sei caduta Ele? Sì Grazie a tutti Grazie a tutti Chiara? Non sei caduta Sbilanciata Adesso E tutto Ma non ho saputo Sì Sì Grazie a tutti 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 Grazie a tutti